Maccarone, 42 minuti e 50 secondi, se non meritava più di chiunque altro, Maccarone regala il vantaggio straveritato all'Empoli. Ancora Salah, voluta da quella parte del Cautari, cerca di ritrovare in mezzo Pjanic, poi arrivare a l'indicore Florenzi, 2-0 Florenzi in 14 minuti, la Roma già avanti di due gol. Cautari, ancora recupera lo scambio, il pallone ancora in profondità per Cervinio, la prova a vincere il duello con Gonzalez, ancora Cervinio, 3-0 di due, Cervinio, c'è quello spazio per calciare Cervinio, ma che gol ha fatto Cervinio, 3-0 per la Roma al ventisettesimo. Cervinio, 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 Cervin Adesso Saliuciane, ancora verso Cervinio, Cervinio la finta, Cervinio, la chiude definitivamente Cervinio, con una doppietta magica davvero, 4 a 2 per la Roma, ancora Cervinio. Avanza Saliuciane, dice di portare palla, il capitano allarga dalle parti di Pereira, subito troppo di Pedro Pereira, e stavolta Moriela, non sbaglia, avanti da Santoria, dopo 5 minuti e mezzo, Luis Moriela. Mentre l'Inter avanza con Dovile e Santon, lascia partire il cross Santon, Icardi a saltare, ma non è che resta lì, Icardi ancora, Icardi due volte, e poi il pareggio, il pareggio dell'Inter, la mette Perisic, primo clave d'Italia per Perisic, è 1-1. Sbaglia, portò Di Natale, il più ormai, il campionato per Di Natale, il reso in vantaggio, la Purchia, il secondo tempo, 2 minuti dall'inizio della difesa, Di Natale, 1-0. Proprio da saltinare, la propria della difesa, colpo di vista, Cacperia, davanti alla porta, mischia, per la Cacperia, caccio di vigore, calcio di vigore. Parte Perotti, con il destro, e il gol è 1-1. Cambia a Puglia, sale Masina. La cassa di Masina, l'inserimento di Munier, e la palla di Rete. Munier, terzo gol, porta in vantaggio a Bologna. Hernanes, velo di Chivira, quadrato, tutto di prima, di Bala, può distendersi la Juve, ha scattato Chivira a destra, la vede di Bala, scarica solo da Tedesco, che la può mettere in mezzo, è arrivato anche Pogba, Chivira, la mente passa, si vede da Morata a Rete, il paio da Juve, ancora da Morata. Barzagli, balla cross, ballone verso Morata, di giù, caccio di Juve. Di Bala a Rete, Juve in costo di vantaggio, esecuzione perfetta di Pogba. Pogba, allarga per Morata, è scoperto la difesa della Bologna, Morata dito per il quadrato, la centro taglia a Pogba, quadrato ancora per Morata, invoca il Pogba di Pogba, che solo, palla su la seconda palla, capire il testo di Rete. Il Pogba di Pogba, il Pogba di Pogba, il Pogba di Pogba, che va a Pogba, che va a Pogba, che va a Pogba, che va a Palazzo in vantaggio, a 35esimo minuto. Lulic, che può dare il contropiede, che è da, c'è soltanto Dionisi in chiusura, che è da, 3 contro 1, che è da, palla in mezzo per il pallonetto di Anderson, poi Cercicic. E il 2 a 0 della Lazio.